Domenica dalle 10 alle 12 e 45 si terrà l'open day di Musicami, il laboratorio che accompagna i bambini alla scoperta del meraviglioso mondo dei suoni a partire dalla primissima infanzia da 0 a 5 anni. Il percorso basato sulla music learning theory del professor Gordon sarà condotto da Luana Gentile. L'open day che si terrà domenica mattina riguarda delle attività dedicate alla prima infanzia e quando dico prima infanzia dico veramente prima infanzia perché partiremo da 0 anni ai 5. La music learning theory è approdata in Italia una ventina di anni fa quindi non da molto tempo ed è basata su un principio, definisce proprio che l'apprendimento musicale possa avvenire in una modalità molto simile all'apprendimento linguistico. Lavoreremo tanto sull'ascolto perché senza ascoltare, senza osservare, nulla si può imparare, tant'è che durante le lezioni noi sospenderemo quello che è il linguaggio verbale, useremo solo il suono, solo la musica. Veramente invito tutti venite domenica numerosi, vi aspettiamo.